Esercizio 3 Il gioco della formica Posizione retta, gambe unite e braccia leggermente flesse in avanti. Mettete il bambino davanti a voi a pancia in giù, in modo che la testa del bambino sia davanti alla vostra spalla destra. Sostenete il pancino con una mano e appoggiate l'altra sulla schiena. È importante che il busto del bambino sia leggermente inclinato verso l'alto. Posizionate una palla nell'acqua davanti al vostro bambino. Istintivamente il bimbo cercherà di afferrarla. Vi avvicinerete alla palla e una volta che l'avrà presa la lancerete poco più avanti. Durante lo spostamento eseguite due passi di marcia con spostamento laterale. I benefici per la mamma Aiuta a tonificare le gambe, i glutei e migliora la circolazione venosa e linfatica per il bambino. Stimola riflessi arcaici e sensoriali e favorisce la futura coordinazione oculo-manuale.